Ripensare l'economia significa anche ripensare l'energia, i modi in cui viene consumata, i modi in cui viene prodotta. Sì, non c'è dubbio, c'è però fame di energia e l'energia è vita. Noi abbiamo un miliardo e quattrocentomila persone che attendono di essere collegate all'energia e abbiamo un miliardo di persone che hanno energia in modo discontinuo e l'energia è vita. L'energia vuol dire conservare i cibi, vuol dire estrarre acqua, vuol dire conservare i medicinali. Quindi un grande impegno di Enel è quello di fare in modo che una maggiore produzione di energia sia però sostenibile in termini ambientali e credo che l'unica ricetta sia l'innovazione, cioè portare innovazione nel settore energetico. In che modo Enel si inserisce in un percorso verso un'economia più positiva anche in Italia? Se mi chiede in termini ambientali, noi abbiamo una delle più grandi aziende al mondo sulle rinnovabili e quindi stiamo dando il nostro contributo in termini di una energia a zero emissioni, mettiamola così. Se mi parla invece in termini di sostenibilità in senso lato, Enel è certamente una delle utility più importanti al mondo, attiva sui temi della corporate social responsibility e quindi attiva su tutti i temi che vanno dalla corporate governance alla sostenibilità economica, alla sostenibilità ambientale, ai temi di sicurezza sul lavoro e siamo molto fieri del lavoro che stiamo facendo. Questa mattina al forum per l'economia positiva si è parlato anche di donne, del ruolo delle donne, di come rafforzare il ruolo femminile nella società, nelle grandi aziende. Lei è un esempio di donna al vertice. Com'è possibile creare un movimento anche in questo senso? Io credo che di movimenti ce ne siano. Abbiamo sentito stamattina Claudia Parzani, che è presidente di Valore D, che è uno dei movimenti più attivi sul fronte della parità di genere. Io credo che molti passi siano stati fatti, devo dire la verità. Certamente abbiamo ancora da affrontare un cambio culturale e dobbiamo sfatare alcuni miti. In realtà i paesi dove è più alto il tasso di disoccupazione femminile sono anche i paesi a minore natalità, perché in verità più le donne lavorano più portano benessere alla famiglia e quindi più si alza la natalità di un paese. Credo che però noi come Italia abbiamo forse un problema ancora più grande. Noi abbiamo il 44% di tasso di disoccupazione giovanile e in quel 44% ci sono donne e uomini che dovrebbero essere il futuro del nostro paese. Quindi vero parità di genere ma ancora di più cambio generazionale e quindi politica del merito e dei talenti. Parte di quelle donne e uomini che sono il futuro del nostro paese sono anche qui nella comunità di San Patrignano, stanno compiendo un percorso. Che impressione ha avuto della comunità? Sono emozionata. Io non c'ero mai stata, ho fatto un giro stamattina. Devo dire che è veramente incredibile quello che voi fate, la cura che ci mettete, l'attenzione. Credo che davvero si capisca perché avete un tasso di successo, se posso chiamarlo così, così alto rispetto ad altre comunità. Veramente siete straordinari. Grazie. Grazie.